Sì, 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 sì. ... ... ... ... ... ... ... 2, 3, 4, 5... E'amma? 5 uruvava ad'a irukkui? Né'nghe kètu d'ell'a vanno andando qui, questa è l'ambito. E'amma, questa è l'ambito. E'amma, questa è l'ambito e l'ambito. E'amma, chi è chi si chiama? E'amma, non vanno andando. Ok, va? E'amma, questa è l'ambito. E'amma, questa è l'ambito e l'ambito. E'amma, questa è l'ambito. E'amma? E'amma, questa è l'ambito, è l'ambito. Suma-thi, qui ti chiamo? E'amma? 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 E'amma, sono l'ambito e l'ambito. E'amma, è l'ambito. E'amma, questa è l'ambito. E'amma sante, sono un po' e'amma. E'amma, questo è l'ambito. E'amma si non mi piace! Ma non ci vengi e ne vengi? Non è tutto se che vengono a fare questo. Deve hoped. Papà, vede! Vero! Patti, vetti, vetti! e Simin tuttaанный darutgn contrassi. È siamo. Chai. Chai. Chi fai? Oè? .' Si devi lavorassare. Hai, chi è für? Hai. Arada? E' questa parag girl? Ce economists euro ad desde nellaos... ...e' questo invece... ...ma glitter d'esata. ... Noi, la mia amma nonostante. Ora ora è un tempo, se non lo faccio il vittere, non lo faccio il vittere. Non è merito... L'eo vittere è una nota. Si non si chiama il vittere, non si chiama il vittere. Non si non si chiama il vittere. Non si chiama il vittere. Grazie a tutti. 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 e 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 tutti. tutti. e 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 tutti.